Bene amici, ecco finalmente il cedolino della pensione di settembre 2023 e proprio sul cedolino ci sono 4 novità di cui una bonus, una sorpresa folle appena comunicata da Inps e Poste a braccetto. Controlliamo assieme quindi il dettaglio di tutte le voci, rimborsi, aumenti arretrati, 14esima, bonus 150 euro, occhio ritardatario, le nuove rivalutazioni in arrivo, i ricalcoli per gli invalidi e ok partiamo subito, tabella alla mano. Io sono Mr. Lul, prima però di partire mi raccomando un bel like per premiare la tempestività di questo video. Eccoci sul portale Inps iniziano a comparire i cedolini della pensione di settembre 2023. Nel fascicolo trovate infatti il ratio 9, ci cliccate sopra così vedete anche il dettaglio di tutte le voci. Pagamenti invece vi ricordo 1 settembre. Mi raccomando dovete controllare alcune cose fondamentali. Primo rimborsi 7,30 nel caso siate ancora in attesa della vostra risultanza della dichiarazione dei redditi. Poi 14esima, ritardataria, bonus 655 euro per chi ancora appunto non l'avesse ricevuta. Ma eccoci al bonus 150 euro anti-inflazione. Tantissimi di voi lo stanno attendendo in busta e purtroppo sbagliano perché non si tratta di un nuovo bonus che che ne dicano giornali e siti ma di quello vecchio del 2022. Quindi al massimo in questa busta qualcuno di voi potrebbe trovare degli arretrati. Un discorso similare possiamo farlo anche per l'aumento delle pensioni minime, arriverà solo a chi sia ancora in attesa dei comodi di IMSS. Ma sono in arrivo invece nuove rivalutazioni a gennaio. Il conguaglio sulla rivalutazione 2022 più l'acconto della rivalutazione su 2023 stimata probabilmente in un 5%. Quindi aumentini, spicciolini, anche stavolta, anche quest'anno. In busta poi troverete come sempre addizionari all'IRPEF, l'amata IRPEF anche ordinaria, in odore però di riforma, riforma del fisco, che a breve, a sentire qualcuno, beh, renderà i pensionati tutti più ricchi. Ora, importante avviso doppio, IMSS, poste, è possibile richiedere il cedolino della pensione anche negli uffici postali poste polis. Peccato che ogni cedolino richiesto, beh, costi oltre 2 euro a stampa. Complimenti e poi, ovviamente, attenzione per gli invalidi parziali e totali a quelli che sono i ricalcoli causati, che sono e che saranno i ricalcoli causati dall'ultimo dietrofront dell'IMS. Abbiamo spiegato tutto nel dettaglio in questo video. E, detto questo, spero che la rassegna sia stata utile, interessante, se è così un bel like. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio, fatemi sapere nei commenti. Un saluto da Mr. Lull.